Ben trovata al nostro consueto spazio di approfondimento, aspettando il TG Piemonte, siamo in studio con Cecilia Bozzolini, direttrice Torino Fringe Festival, parliamo di arte, parliamo di cultura. Ben trovata. Grazie, grazie, grazie dell'invito. Grazie per aver accettato il nostro invito. Parliamo di un appuntamento che prenderà vita dal 17 maggio fino al 2 giugno, teatro, arti performative. Cosa non succederà in questi 17 giorni, in queste due settimane? Cominciamo con alcuni numeri perché sono sempre quelli molto interessanti, 300 compagnie, 2000 repliche, 70 spazi di Torino. Parliamo di una cosa non convenzionale. Esattamente, sì, mi fatevi fatto bene a dire, facciamo prima a dire quello che non c'è. I numeri che hai citato adesso sono i numeri di questi 10-11 anni di edizione. Iniziamo quest'anno, il 17 di maggio, la dodicesima edizione. Quest'anno avremo 150 repliche, tra spettacoli, debutti, anteprime, talk, parate, concerti, proprio perché è un festival che va a inserire non generi specifici, ma tutti i generi legati alle performing arts, quindi dal teatro alla musica, visual, anche incontri, talk, workshop, ne avremo uno sulla creatività, quindi aperto proprio a tutti i creativi. Noi selezioniamo le compagnie tramite un bando, una call, che è uscita in autunno. Quest'anno hanno aderito più di 700 compagnie, artisti da tutto il mondo, e queste 150 repliche sono quelle che poi sono state selezionate prevalentemente da questo bando. Il fratello dell'energia ci propone alcuni scatti, alcune foto delle passate edizioni. Abbiamo visto ambientazioni anche molto particolari, c'era un soffitto a botte, ecco lo sfondo di questo, penso sia, potrebbe essere forse un cortile. In luoghi non convenzionali perché si può fare quasi ovunque. Esatto, sì, questa non convenzionalità è proprio la natura del festival sin dal suo primo anno, che avviene laddove, o al meglio, cerchiamo di far sì che tutti gli spettacoli siano inseriti in luoghi dove solitamente la cultura non arriva, e quindi si va dai murazzi del Po alle piazze, ai mercati, a luoghi non convenzionali, tipo quello che adesso è passato con il muro sul retro, è un ristorante siberiano, insomma, questa è proprio la caratteristica del festival, andare a cercare, fare un bello scouting di luoghi non convenzionali e poi andare a portarvi la cultura, quindi cercare il più possibile di abbattere, di diminuire le distanze tra lo spettacolo dal vivo e il pubblico, il pubblico letteralmente inciampa nello spettacolo dal vivo, se lo trova lì e quindi è anche più facile che ci sia questo rapporto di estrema vicinanza. Cosa c'è in cartellone? Allora, se c'è in cartellone... Facciamo qualche spoiler, no? Perchè devi capire cosa il pubblico metrà. Va bene, allora, cominciamo quindi con l'inaugurazione del 17 di maggio, avremo una parata itinerante lungo tutto i murazzi del Po, a partire da Gianca Murazzi fino ad arrivare al magazzino sul Po, che è uno dei luoghi partner del festival sin dal suo primo anno, e avremo questa parata itinerante in compagnia di Banda Cadabra, che è una marching band torinese, con la sua carica travolgente, hanno esportato il format in tutto il mondo e adesso per il festival torneranno a casa e aprono insieme a noi. E poi avremo una serie di repliche in tutti questi spazi, le compagnie sono state selezionate prevalentemente da bando e vengono poi inserite, assegnate in spazi che possono essere adatti per questa messa in scena. Quest'anno avremo degli spazi che vanno a toccare una zona che negli anni abbiamo toccato solo in parte, che è la zona di San Salvario, in cui avremo ben tre spazi, il Teatro Baretti, lo spazio Lombroso e un nuovo spazio di nuova apertura, il Tingle Tangle. La particolarità di quest'anno è la novità dell'edizione? Allora, la novità dell'edizione? Beh, noi partiamo da ogni anno a segnare un tema non a priori, cioè quindi non di base, ma in base alle proposte che arrivano e quindi questo è inusuale perché appunto il tema poi viene stabilito successivamente, il tema di quest'anno è Arcadia crossover, Arcadia come invito all'esplorazione di un futuro armonioso in cui gli individui possano vivere in connessione tra loro e con l'ambiente e in cui il teatro, insomma l'arte in generale, ha una funzione fondamentale proprio di catalizzatrice, di connessioni tra questi enti. Crossover è proprio per questo motivo, perché c'è una mescolanza, una convivenza di linguaggi artistici diversissimi tra loro e quindi il fatto che si possa andare appunto dalla parata musicale al debutto a invece un workshop, citavo prima, sulla creatività, fa sì che poi ci sia veramente un programma sfaccettato, variegato e poliforme. Quindi teatro, arti performative, non si assisterà soltanto allo spettacolo, ma si assisterà anche a incontri e a tutto quello che riguarda l'arte intesa anche dal punto di vista teorico, in un certo senso forse. Sì, sì, ci sono infatti dei talk, ne abbiamo previsti tre, in cui si andrà a parlare proprio di questo, del rapporto tra produzione culturale, persone e territorio, quindi come anche la cultura possa trasformare il territorio, modellarlo, modularlo e insomma anche valorizzarlo grazie all'arte performativa. Adesso avremo tre incontri di questo tipo proprio tematici. Fringe Festival è un evento diffuso sul territorio, ma mi raccontavi prima anche a livello mondiale, sotto certi aspetti, perché è nato in che zona esattamente? Allora, noi ereditiamo, insomma abbiamo preso il nome dal primo Fringe, che è quello di Edimburgo, il Fringe di Edimburgo nasce negli anni 1940 più o meno, e perché Fringe? Perché c'era una programmazione ufficiale di un festival legato alle arti performative e alcuni artisti che non erano stati invitati, quindi non inseriti nel programma, decisero comunque di mettere in scena il proprio spettacolo e quindi questa programmazione alato di quella ufficiale ha dato vita al nome Fringe, che significa letteralmente margine, bordo, frangia, off, e dunque noi ereditiamo questo nome. Nel mondo adesso ci sono attualmente circa 250 Fringe Festival e in Italia ce ne sono tre. 70 spazi. Leggiamo alcuni numeri perché davvero sono abbastanza impressionanti, oltre ai 300 compagnoli. e poi continuiamo a vedere altri spezzoni di spettacoli, di talk, respiro del corpo, cioè questa sembra una lezione forse di yoga, di meditazione addirittura. Ecco, che numeri ci si aspetta di fare quest'anno? Che? Che numeri ci si aspetta di fare? Ma allora, appunto, negli anni abbiamo collezionato, siamo contenti di aver fatto sì che 100.000 spettatori venissero ad assistere agli spettacoli e speriamo quest'anno di mantenere, se non alzare la media, che è più o meno di 10.000 spettatori all'anno, quindi sarebbe veramente un ottimo risultato da raggiungere e superare, anche perché significa che sono 10.000 spettatori che credono nel festival e hanno piacere di venire, essere coinvolti anche. Noi abbiamo questi momenti, tra l'altro ormai tradizionali, degli after, dopo gli spettacoli, per cui si prevedono dei momenti di incontro informali tra artisti, operatori del settore e pubblico e anche un modo per far sì che gli spettatori possano conoscere, parlare, interagire e creare anche amicizie con gli artisti. Che cosa si vede negli occhi degli spettatori durante gli spettacoli, durante le esibizioni? Immagino per i numeri che stiamo raccontando, per la quantità di spettacoli che anche questa edizione si prepara, insomma fa benesperare e fa capire che sia molto prezzata come arte. Sì, beh, gli occhi degli spettatori sono il motivo per cui facciamo questo festival, ma non solo degli spettatori, anche degli artisti. degli artisti, cioè noi davvero stiamo cercando tantissimo di non solo inserire degli spettacoli messi lì, appiccicati lì, ma anche di favorire veramente anche la relazione tra gli artisti stessi, il pubblico, sono nate anche delle collaborazioni negli anni tra artisti che si sono conosciuti durante il festival. E il pubblico, insomma, che tutti gli anni continua a venire, fa sì che noi siamo felici del fatto che siano fedeli a questa programmazione, ma anche che poi si crei un nuovo pubblico. Siamo quasi in chiusura, novità, ci sono già delle novità, walk in progress, mettiamola così per la prossima edizione. Guarda, noi in realtà sì, ragioniamo contemporaneamente sull'edizione corrente e quella futura, e in realtà sì, le novità saranno sempre legate alla non convenzionalità degli spazi, per cui ogni anno si tenta di andare a scovare ogni angolo possibile in cui è possibile portare lo spettacolo dal vivo. 17 maggio 2 giugno, appuntamento col Torino Fringe Festival. Grazie a Cecilia Bozzolini, direttrice della Rassegna, per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a voi spettatori per averci seguito. Grazie a voi.